Anzi 16 per le triple per Trieste stasera, Brown va a schiazzare. Gaspardo aspetta l'arrivo di Caraggi, gioca con De Liari, c'è a servire Gaspardo con un'altra palla strepitosa. In questo canestro sono stati del testo dall'assist, bellissimo assist di Federico Buccini. Per la formazione allenata da corso Stefano Salieri vediamo questa ottima palla di Sabatini per la schiacciata, direi in solitaria di Brady Schienzo che va 4 a 2. Un po' non di gran basket, con azioni un po' confusionali, però queste partite sono anche questo. Ancora il giro palla con Ciapelli che riceve poi scarica a 4 secondi. Bossa Mai e lui nella pressione, allo subito, canestro. Brillante questa sera, qui ottimo recupero di Johnson che può far partire il contropiede. Anuba per Johnson! Seconda schiacciata! Altissima per la San Giobbe. Guattinelli che va a servire Aradori, poi scarico per Morgillo. Va a inchiodare Morgillo, pari quota 25. Per Brown, consegna a Leonzio, scuuta dentro Leonzio, alza per Brown e va a schiacciare una pima, ne? Si va poi da Sabatini, sta su di lui Tassinari ma è velocissimo Sabatini, palla alzata! Per Schienz! Che spettacolo, bravissimi qui! Che spettacolo, bravissimi qui!